Eh, allora, cosa pensi di riscaldamento globale? Penso sia una cosa brutta. Una cosa che, cioè, non dovrebbe esistere. Cosa vorresti gridare al mondo? Cosa vorresti gridare al mondo? Di smettere di pensare soltanto ai propri comodi, diciamo, e guardare in più quello che sta succedendo al mondo. Probabilmente la gente che guarderà il film non capirà l'importanza di questo fattore, però... Quale film? Il film. Il film.